Samsung presenta l'unità a parete Samsung Wind Free. Quante volte con i climatizzatori tradizionali siamo esposti a fastidiosi getti d'aria diretti? Per questo il Samsung Wind Free a parete è stato appositamente progettato per garantire un clima fresco, combinato al massimo del comfort. Infatti è in grado di garantire la temperatura desiderata senza getti d'aria diretti, grazie ai suoi 21.000 microfori. Il massimo dell'efficienza energetica permette un risparmio ancora maggiore. Samsung Wind Free è dotato di Wi-Fi integrato. Grazie all'intelligenza artificiale è capace di riconoscere e imparare le abitudini di chi lo utilizza. Inoltre è possibile interagire con Wind Free attraverso Samsung Bixby e i principali assistenti vocali. E infine, grazie al sensore Motion Detector, che rileva il movimento nella stanza, la direzione del flusso d'aria può essere personalizzata, consentendo così di raggiungere il livello di comfort desiderato. Gamma Samsung Wind Free, migliaia di microfori e nessun getto d'aria diretto.